La meraviglia, lo stupore, la difficoltà che i giudei hanno espresso nei confronti di Gesù quando dice io sono disceso dal cielo, la stessa cosa la evidenziano quando dicono ma come può costui darci la sua carne da mangiare, è incomprensibile il discorso che Gesù fa di dire io sono non solo il pane, il pane che dà la vita, il pane che dà a voi la possibilità di una vita che non conosce tramonto, la vita dell'eternità, non solo ma questo pane è la carne per la vita del mondo, quindi entra un concetto nuovo legato, molto più comprensibile il concetto del pane, elemento essenziale, basilare per tutti e molto più, secondo me, difficile da comprendere, perlomeno da accogliere e di dire io sono la carne per la vita del mondo. Credo che forse il termine carne indichi qualcosa in più, indichi una parte della vita, ciò che è vitale e per cui questo non è un concetto così facilmente recepibile da parte dei giudei ma credo che questo non sia semplice non solo per i giudei ma credo per tutti il pensare, ecco che il maestro di Nazareth, che Gesù è capace di essere, è lui, pane e carne per la vita del mondo. Per questo è necessario un percorso, un cammino di fede, un atteggiamento di fiducia, di maturazione, di affidamento a lui, proprio perché possiamo entrare all'interno di questo mistero guidati dalla forza dell'amore che è posto dentro al cuore di ciascuno di noi. Gesù ancora rincuora i giudei, rincuora i discepoli nel affermare che è attraverso questo rapporto di comunione con lui, pane di vita, carne per la vita del mondo, che è possibile avere la vita dell'eternità, la vita dell'infinito. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Ecco l'orizzonte si sposta, ecco, credo dal pellegrinaggio terreno, dal nutrirsi, dal cibarsi di lui per avere la vita, per fare questo passo nell'oltre. E nell'oltre dell'infinito è lì che è possibile arrivare, è lì che è possibile nell'esperimentare, ecco, la pienezza, la definitività dell'amore di lui quando nel mio cammino, ecco, mi nutro, mi sostengo con il pane vivo disceso dal cielo. L'esperienza dei santi, l'esperienza dei mistici, è con prova, direi, di tutto questo. Santi che davanti al pane della vita, ecco, hanno contemplato quel mistero dell'amore di Dio visibile, si sono nutriti perché la loro vita fosse pane spezzato nella carità, nell'amore, fosse fragranza della vita di Cristo. Allora il mistero della Pasqua del Signore, mistero della morte e della risurrezione, l'essere convocati attorno alla mensa della parola e del pane spezzato della vita, accresce con questa esperienza d'amore, questa esperienza di vita dentro al cuore di ogni discepolo.